Benvenuti in questa nuova puntata del podcast Fatturare, Fatturare, Fatturare. Io sono Alberto Frisoni e oggi qua con noi abbiamo Ludovico Cianchetta Vasquez. Benvenuto. Grazie mille, è un piacere. Abbiamo il re degli immobili, per come sei conosciuto oggi, il re degli Airbnb. Esatto, degli Airbnb. Il re degli immobili magari lo lasciamo ad Alfio o a qualcosa del genere. Il re degli Airbnb. Esatto, che sei arrivato di corsa dal Portogallo, mi dicevi. Sì, 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 una vita di corsa. E domani andrò a Lugano, dopo domani a New York, poi a Argentina. Una vita di corsa. Grande. Raccontami un po', mi piace partire dall'inizio solitamente, che è bello conoscere. Poi arriviamo anche alla tua vita di oggi, al tuo stile di vita e ciò che fai oggi, no? Diciamo che io ho avuto una vita abbastanza poliedrica. Mia madre dice sempre che quello che ho fatto io a 20 rotti anni, adesso ne ho 28, ma questa cosa me la dice da un po' di anni, non l'hanno fatta persone in 50 e non la faranno neanche in 100. Calcola che è proprio la primissima cosa imprenditoriale fatta per... La prima esperienza lavorativa, degna di note, l'ho avuta intorno ai 15 anni. Lavoravo per un blog di tecnologia, Mondo Apple, si chiama iSpazio, che è comunque il punto di riferimento per tutto quello che riguarda il Mondo Apple, una delle mie passioni. Poi sono passato intorno ai 18 anni a lavorare per GQ, che è una delle riviste più importanti d'Italia, a casa editrice con The Nast, che fa parte dell'universo di Vogue, Vanity Fair... Ma lavoravi in che ruolo? Giornalista. Giornalista, pubblicista. Non ho mai fatto il patentino, l'esame per poi diventare ufficialmente parte dell'albo, però ho più di 100 articoli all'attivo. Andavo nei fiere di settore come il Mobile World Congress a Barcellona, mi viene da dirlo in spagnolo, a Barcellona. L'IFA di Berlino, lavoravo con i brand come Samsung, Huawei, Apple, eccetera. La gavetta da blogger mi è servita poi ad entrare da GQ. Ho lavorato poi anche come giornalista televisivo a DJ TV, sempre lato tecnologia, ho fatto il modello, e queste sono le esperienze che poi mi hanno plasmato ad oggi. E poi ho aperto la mia prima start-up che si chiamava Power Me, lanciata grazie ad un crowdfunding. Quanti soldi avevi raccolto? Allora, tanti per l'epoca, ad oggi sono bruscoletti. Ti parlo di 45.000 dollari in un mese, però era un prodotto da 9 dollari, quindi ne abbiamo vendute diverse migliaia. Era un cavetto che permetteva di condividere l'energia tra due smartphone. Ad oggi tu dici, vabbè, io attacco il mio Huawei con il mio Samsung, è una cosa normalissima. Nel 2015, quando l'abbiamo lanciato noi, era una roba super innovativa. Siamo stati incubati da Digital Magics, che tra l'altro ha l'ufficio qua in via 4040, tanto che l'incubatore numero uno che c'è in Italia fa parte anche dell'universo Talent Garden, se non mi ricordo male. E diciamo che a livello mediatico è andata benissimo. 45.000 dollari, tutti i giornali parlavano di noi, interviste, start-up Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Poi in soldoni, nella pratica, costi incredibili per entrare nella grande distribuzione, magari come Media World, eccetera, eccetera. C'era una burocrazia, investimenti da fare incredibili, e quindi, diciamo, è durata un due, tre anni, però non è mai decollata, non mi ha cambiato la vita dal punto di vista economico. Sicuramente mi ha permesso di capire poi cosa volevo, cosa non volevo per il mio futuro. Quindi, ad esempio, fare impresa in Italia con tutte queste burocrazie, con tutte queste lungaggini, solo se ne vale realmente la pena. Quindi, se posso lanciare un business online, trasferendomi all'estero, avere delle agevolazioni, lo faccio. Piuttosto che ho capito l'importanza del creare dei business model che possono autosostenersi sin da subito. Cioè, Power Me, fighissimo, 45.000 dollari, abbiamo prodotto tutti i cavi, li abbiamo spediti in tutto il mondo. Ero io lì che imbustavo con i miei amici, con mia madre, la ragazza dell'epoca. Ci siamo anche un po' arrangiati. Però poi per scalare lì dovevi avere accordi, roba in Cina, in India, cioè, solo di voli, partivano decine di migliaia di euro pur viaggiando in economia. E lo producevi? Chi è che lo produceva? In Cina. L'avevamo trovato su Aliexpress, un tizio che produceva cavi normali. Gli abbiamo mostrato lo schema tecnico poi di quel cavo, che in realtà ha detto, adesso lo posso anche dire, il brevetto l'abbiamo venduto. Cioè, era un cavo USB normalissimo, avevamo invertito due cavi. Perché il concetto qual era? Praticamente esiste questa funzione che si chiama USB OTG. USB on the go. Ok. Principalmente hanno i dispositivi Android che ti permette di leggere una chiavetta USB e via discorrendo dal tuo dispositivo Android. E il ragionamento che facciamo col mio socio è stato se il telefono può leggere dati da una chiavetta USB, la chiavetta USB necessita di alimentazione. Quindi il telefono alimenta la chiavetta USB, quindi il telefono può erogare dell'energia. E se il telefono può erogare dell'energia per alimentare una chiavetta USB o una fotocamera, può erogare anche energia a un altro telefono. Quindi noi ingannavamo lo smartphone facendogli credere che ci fosse collegato una chiavetta USB in realtà stava caricando un altro telefono. Ma poi dal punto di vista tecnico era una roba che pure uno che sta studiando all'ITIS del paese lo può fare. Quindi poi abbiamo trovato il primo fornitore di cavi che c'era su Aglie Express, ci siamo accordati e via. Quindi ripeto, successione dal punto di vista mediatico, ma poi non è che sono intanto ricco con quella cosa, anzi, anzi, con tutte le ore che ci ho dedicato ad oggi è stato un fallimento da quel punto di vista. Però invece come esperienza penso che se oggi sono l'imprenditore che sono è sicuramente merito anche di questa avventura che quindi è stata la prima diciamo avventura imprenditoriale seria. Poi ho fatto varie robe e-commerce, ma robe piccole. E nel frattempo ho concluso gli studi universitari perché questa cosa l'avevo iniziata alle superiori. e poi sono entrato un po' nel mondo corporate quindi neanche il tempo di laurearmi che avevo già diverse offerte di lavoro. Ho lavorato prima per Elbitz, i monopattini elettrici, marketing manager, durata relativamente poco per screzzi con il founder. Dopo sono andato a Deliveroo nel commerciale. Chiaramente quando dico Deliveroo devo sempre specificare che non consegnavo le pizze, cioè che non c'è nulla di male. Sì, sì, sì. Sono fatte tante di cose, ho fatto volantinacce, ho fatto di tutto e di più, però non ho mai consegnato le pizze se non per il ristorante di mia madre e quindi Deliveroo nel commerciale sono durato anche lì tre, quattro mesi. Ho ricevuto un'offerta da Innocent Drinks che è una società di Coca-Cola che produce quegli smoothies abbastanza costoso, premium, cioè una marca premium di smoothies che trovi magari all'esse lunga al Carrefour. Durato sette giorni. Ah, proprio. L'ambiente non era... No, no, anzi, l'ambiente era ottimo, era super giovanile, super cool, poi ti regalavano i succhetti, ero cliente numero uno, quindi per me era tipo un sogno lavorare per loro, però mi sono reso conto che il problema non era tanto l'ambiente di lavoro, talvolta anche, era proprio il lavoro da dipendente, che avevo questa cosa dentro, che dovevo fare l'imprenditore piuttosto ammazzatemi, piuttosto che fare... cioè anche se domani mi offrissero 500 mila euro al mese per... cioè no, no grazie. No orari, no... Poi lavoro più di quanto lavorerei da dipendente, però lo faccio per me, con la mia libertà, è sicuramente diverso, quindi ho avuto questa parentesi di neanche un anno da dipendente e in una delle mille esperienze passate, poi su LinkedIn ci sono tutte, a volte me ne dimentico pure io, io ho fatto come freelance il partnership manager per Milano Stanze, che era un sito che prendeva un'azienda che prendeva grossi mobili solo su Milano, quindi super di nicchia, quadri locali, penta locali, pagava il canone di fitto al proprietario e non so, tipo 2000 euro al mese e poi subaffittando le singole stanze a studenti universitari a lungo termine, dal canone di 2000 ne generava magari 5000, 6000 e ho lavorato un po' di anni per questa azienda come freelance, quindi consulente esterno, e da lì ho imparato la sublocazione, quindi cosa succede? Che un giorno l'avvocato con cui feci power mi disse guarda che c'è il mio cognato, non mi ricordo che c'è un immobile in centro a Milano, molto figo, però era un bilocale, il bilocale non si presta a Milano Stanze, lui voleva segnalarlo a Milano Stanze così che ci saremmo presi la provvigione che all'epoca ha 1000 euro di immobile per ogni immobile che portavo e ho detto caspita, Milano Stanze non possiamo darlo, l'immobile però ha un potenziale incredibile, in pieno centro a Milano un duplex eccetera eccetera provo ad applicare quello che ho imparato da Milano Stanze e lo metto su Airbnb, quindi inizio, home staging, cioè al posto di mettere il titolo, casa in corso Venezia, come fanno tutti quanti, ho detto, fai un po' di copi, loft esatto, un po' di copi, loft a due passi dal Duomo, walking distance, queste cose qui e mi chiede esploso, tipo questo lo affittava a 1800, dopo tre giorni avevo 4000 euro di pronotazioni, poi avevo riempito il mese, non è che avevo avuto 4000 euro li ho generati in due giorni ma per delle pronotazioni magari di un mese, neanche tre settimane da quando ho lanciato quella ho già preso un altro in sublocazione perché ho detto se funziona sta cosa, cioè non è che sto qui ad aspettare sei mesi, vediamo se funziona, cioè se è così immediato qua bisogna bisogna sfruttarlo e all'epoca nessuno parlava di sublocazione, cioè tipo ti guardava per dire ma la sublocazione è legale, addirittura gli agenti immobiliari stessi non lo sapevano, non che oggi siano proprio delle cime gli agenti immobiliari, però comunque cioè veramente non ne parlava nessuno e il problema qual è stato? che io ho applicato tutto quello che ho imparato a Milano Stanze a livello di marketing, copy, home staging, mi mancava tutta la parte burocratica che era una giungla ovviamente, siamo in Italia e ho detto vabbè compro il corso di qualcuno, compro un libro, compro qualcosa deserto più totale, non esistevano corsi. Cioè cercavi su Amazon o su Google? C'erano dei libri ma completamente inutili perché erano molto generali, generalisti diciamo, non andavano molto nello specifico, infatti poi ho creato il mio libro con Mondadori da uno dei progetti. Ce lo dovevi portare qua oggi. Hai ragione, hai ragione, è che io li regalo tutti e quindi non ho mai copie per me, i miei libri li vado a comprare in Mondadori perché c'è le copie che avevo preso sparite già da più di un anno e quindi dico, caspita, cioè come devo fare? Passate le ore andavo in camera di commercio, sono andato in comune, gruppi, altri host, poi ognuno diceva la sua. Quindi ho detto, vabbè, intanto parto così, preghiamo, segno della croce, che non mi arrivino multe o cose e poi pian piano lanciando più B&B ho capito qual era l'altra fila da fare, lo potevi fare da remoto col computer e via discorrendo. E ho iniziato a vedere i miei amici attorno a me che mi dicono, Ludo, sei passato da che dovevi stare in un ufficio di qua di là, Miami, vacanze, New York, elicotteri, cose di punto in bianco, cioè vogliamo farlo pure noi. Allora mi metto lì, a casa di questo mio amico Vincenzo, erano in 4 o 5, non mi ricordo, gli faccio tipo lezione dal vivo, parto per Miami, torno, allora ragazzi avete chiamato, avete seguito quello che vi ho detto, eh no, io ho l'esame in università, eh no, io mi sono dimenticato, eh no, a me non hanno risposto, ho buttato tre giorni, per carità sono miei amici, non mi sono neanche fatto pagare. Gli hai fatto formazione di fatti. Sì, ma grazie, perché poi era un favore che volevo fare a degli amici, però ho toccato. Ho puntato su di loro per magari crearmi anche dei collaboratori per espandermi e loro non hanno colto l'opportunità. Ho detto, come posso continuare a aiutare chi me lo chiede, che poi insomma è iniziato veramente anche i miei amici su Instagram, avevo 5.000 follower all'epoca, i miei amici vedevano, io comunque ero gasato, mettevo, ho cambiato vita, eh guardate, registro queste lezioni, registro, chi vuole me le paga e soprattutto possono imparare anche se io sono a Miami, a New York o dove... Di che anni stiamo parlando? 2018-19, qualcosa del genere. Quindi anche il business dei corsi all'epoca non era come adesso che tutti fanno corsi su tutto, ci sono 100.000... C'è un'inflazione. Infatti io ero, ripeto, sorpresissimo che non esistesse un corso, cioè il mio corso è stato realmente il primo corso su Airbnb in Italia e in italiano, ma anche a livello estero veramente non si trovava niente, cioè tipo il mercato spagnolo ancora oggi è praticamente semi-sconosciuto ad Airbnb, che tra l'altro è un mercato incredibile, perché se tu ci pensi lo spagnolo è praticamente la prima barra seconda lingua più parlata al mondo, Messico, Perù, Cile, Argentina, Spagna, Nicaragua, cioè ovunque lo parli. Portogallo dove sei tu? Portogallo e portoghese. E quello è un altro mondo, se tu parli in portoghese prendi portogallo che è un buco, ma poi prendi tutto il Brasile che infatti stiamo lavorando anche per il lancio di Airbnb Academy in italiano, spagnolo e inglese e stiamo lavorando al portoghese che sarà una cosa che lanceremo nel corso del 2024. Pazzesco. per prendere un po' tutti i paesi del mondo. Quindi niente, è nato Airbnb Academy, però poi avevo questo corso che registravo in cucina a casa mia, mia madre tornava dal ristorante magari a luna del mattino e io non pare il rumore che devo registrare col MacBook, eccetera. Poi avevo questo corso e sì, lo piazzavo ai miei amici, i prezzi me li inventavo al momento, non avevo sales page, non avevo nulla. Al che un giorno... E riuscivi a vendere agli amici? Sì, sì, sì. Perché vedevano che funziona, non è che era uno sconosciuto, comunque si fidavano di me. Certo. E cosa succede? Che poi un giorno il mio socio storico, Francesco, col quale ho fatto PowerMe, col quale ho fatto e-commerce, eccetera, eccetera, gli faccio... Ma come possiamo senza star qui a spendere soldi, Facebook ads, io non è che avevo esperienza di corsi, mi scemunisco, mi scemunisco, io sono super appassionato di American Express, dico, sai che ti dico, faccio un bel post nel gruppo di American Express, ma in questi gruppi la prima regola è non spam, se no vai fuori. Come posso in maniera smart spammare senza farlo sembrare spam? Idea del secolo. Faccio un post che ce l'ho ancora, guarda, se vuoi te lo leggo. Lo troviamo. Puntata bella e interessante. Sappi che c'è anche un'altra cosa interessante che è il mio nuovo libro Accelerare il fatturato. Se ti piace la formazione per la tua azienda e per farla crescere, vai su accelerarefatturato.com e prendi la tua copia. Nel gruppo di American Express, perché tu eri titolare di Unamex. Sì, Unamex, oro, platino, non mi ricordo neanche. Ho cercato l'altro giorno perché era bellissimo. È praticamente da dove è iniziato tutto ed è appunto un post che feci dopo un po' di tempo che avevo iniziato a registrare le lezioni, se lo leggo... Lo troviamo, lo troviamo. Sai che io ho Unamex ma non sono dentro nessun gruppo di Unamex. Diciamo che poi se la inizi a sfruttare bene... Trovato. 16 novembre 2019. Se la inizi a sfruttare bene diventa un bello strumento. Non è un semplice metodo di pagamento. Io di dieci voli che prendo in business first, sette, otto sono gratis con i punti dell'American Express. Qualunque tipo di spesa la faccio transitare da lì. Guarda, io c'ho una platino ma praticamente non l'ho usato. Cioè, non ho l'utilizzo della carta di credito come... Poi ti insegno. Comunque, post targato 16 novembre 2019. Ciao amici, che ne dite se usiamo questo post per fare un po' di networking? Parola a te cara. Se ognuno di noi dice che lavoro fa e in che città magari possono nascere collaborazioni interessanti. e io inizio io, vivo a Milano, ho lasciato il mio lavoro da ufficio dalle nove alle diciotto per fare l'imprenditore. Più precisamente prendo in locazione degli immobili di pregio di subaffitto su Airbnb con ottimi guadagni. Inoltre ho deciso di creare un corso per chi come me vuole intraprendere questo business e per fine dicembre sarà tutto pronto. Quindi posso definirmi un imprenditore a tutto tondo. Boom. 137 commenti sotto al post. Ah, pazzesco. Zero ban, anzi tutti superventi. Ah sì, io faccio questo, io faccio quello, ingegnere aerospaziale, io ho il cameriere, io ho una ferramenta, ah sì, la ferramenta dove? Cioè, incredibile. E i miei primi clienti di Airbnb Academy diciamo al di fuori della mia cerchia di amici sono stati questi. Li ho trovati da lì uno chef di Como con un suo amico che tuttora sono studenti di Airbnb Academy attivi e hanno abbandonato in realtà non l'hanno preso troppo sul serio quando l'hanno preso e oggi li ho rincontrati in aeroporto tipo l'anno scorso e invece niente, hanno un sacco di B&B tra qua, mi sembra Tenerife, delle robe, neanche il primo studente di Airbnb Academy a distanza di due anni che poi ho aggiornato il corso, cioè erano partiti che duravano forse 15-20 ore oggi ne durava tipo 75 tutti con aggiornamenti gratuiti, nuove leggi, nuove tecniche, nuove cose e oh, persino il primo studente di Airbnb Academy è riuscito ad applicare perché in realtà è una cosa poco astratta, cioè rispetto magari alle cripto dove lo rispetto, cioè devi beccare pure la botta di culo incredibile, cioè che ha investito in Ushiba, in Dogecoin, o Ushiba Inu quando era andata nel senso è culo, la bravura secondo me è proprio un fattore secondario, qui è molto analitico, cioè tu dici faccio una ricerca di mercato, io vedo che a Milano, a Roma viene 150 notte, se io trovo una casa da 1500 euro al mese in 10 notti me lo sono ripagato, i flussi turistici delle città li trovi su Google, scrivi flussi turistici Milano 2022, lo vedi, fai un calcolo quanti turisti ci sono, quanti immobili ci sono e poi ti rendi conto che l'opportunità è reale. Tu riesci a stimare prima di prendere un immobile quanto potrebbe rendere, cioè ora che hai un po' di esperienze, eccetera, o quello che hai visto è che poi in realtà magari ci sono degli immobili che sovraperformano, altri che sovraperformano. Allora, io cerco di fare sempre stime pessimistiche, quindi io dico se infatti il business plan che noi diamo nel corso è tarato proprio in maniera pessimistica, io dico se tu riesci a far quadrare i conti con quel business plan hai la strada spianata. Tra l'altro, adesso parliamo di subloccazione, ma in realtà se dobbiamo dirla tutta c'è il property management dove tu gestisci un po' come fa la gente immobiliare e prendi una provvigione sui ricavi che sei in grado di generare. Quindi se non te la vuoi rischiare, non hai soldi o non ti fidi di quell'immobile. Mi è capitato tante volte di avere degli immobili per i quali secondo me il canone era troppo elevato uno poteva dire me ne vado via, ciao, no io guardi in subloccazione non mi interessa se a piacere partecipiamo agli utili io mi prendo 30-35% lei si prende la restante parte e siamo tutti contenti. Quindi bene o male in un modo o nell'altro l'immobile lo acquisisci sempre se l'interlocutore è chiaramente disposto a lavorare con te. Spieghiamo bene questa parte qua, c'è la differenza tra subloccazione e una persona che dice che l'ha sentito per la prima volta e property management così almeno la subloccazione richiede innanzitutto un investimento che è il canone di locazione moltiplicato per tre o quattro perché hai la caparra la cauzione queste cose qui e tu ti stai assumendo il rischio imprenditoriale di garantire il canone di fitto al proprietario il proprietario chiaramente deve concederti la subloccazione una semplice clausola dove dice io concedo la subloccazione all'interno del contratto esatto e niente poi io appunto lo metto su ebooking le varie piattaforme e genero un incasso tale per cui non solo mi pago le spese ma avanza anche del denaro quindi il vantaggio è massima indipendenza non devi rendere conto di niente a nessuno super scalabile e hai dei profitti molto alti se sai cercare gli immobili gli studenti che hanno trovato degli affari più grandi dei miei magari si tirano fuori 2.500 euro da un bilocale di guadagno non è la prassi la media secondo me sui 1.200-1.300 puliti a subloccazione la media è questa non voglio fare quello che fai 10.000 euro al mese con una casa mentre il property management ha lo svantaggio partiamo dagli svantaggi ha lo svantaggio di dover rendere conto al proprietario perché comunque tu sei in collaborazione con lui se lui ti chiama o perché la casa oggi è vuota gli devi spiegare il perché in subloccazione lui se ne frega però il grande vantaggio è che lo fai investimento zero anche se tu sei squattrinato che più squattrinato non si può basta che hai le competenze quelle te le diamo noi e un minimo di empatia nei confronti del proprietario nel raccontargli le cose realmente nel capire le sue necessità soprattutto allora lì capisci che puoi acquisire quanti ne vuoi mia madre ad oggi ha quanti? 16 immobili ma non ha una subloccazione ah totalmente property tutto property e nonostante lei prenda solo il 50% della provvigione quindi se una provvigione è stata chiusa al 30 lei prende il 15 perché collabora con degli altri studenti B&B Academy perché io preferisco guadagnare meno ma essere più tranquilla si mette in tasca delle cifre che ad esempio quando faceva la ristoratrice non ha mai visto in vita sua e soprattutto oggi di mercoledì alle 19 e 28 fino a due anni fa lei era ristorante pizze da sporto eccetera oggi 19 e 28 è venuta qua a accompagnare suo figlio cosa che in 26 anni di vita non ho mai potuto fare sì sì una libertà uno stile di vita che non è paragonabile chiaramente secondo te per fare un buon affare con il property management quale dovrebbe essere diciamo la percentuale perché è un tema che magari si discute uno dice sì sì quello che bisogna capire è che non è io ho fatto un master in negoziazione ad Harvard e tante persone pensano più io riesco a prendere di provvigione meglio è non è detto perché tu puoi anche passami il termine inchiappettare un proprietario riuscendo di strappare il 50% ma questo appena capisce che è completamente fuori mercato ti toglie la casa quindi io preferisco essere onesto non superare mai il 35% ma ho la coscienza e la tranquillità di essere eticamente corretto innanzitutto e non ho neanche quella paura che oddio se questo lo scopre che è una provvigione completamente fuori mercato mi toglie la casa infatti nessuno mi toglie le case se non perché le vogliono vendere per cavoli loro se lo vogliono fare da soli questo è uno dei problemi diciamo vedono l'incappico provo a farmelo da solo o ad esempio mi è capitato la figlia si sta trasferendo da Bergamo a Milano per studiare vogliono dare una casa a lei stop ma mai nessuno mi ha detto tolgo la casa perché sono insoddisfatto sì sì perché comunque beh c'è da dire una cosa farlo in autonomia ha comunque tutta una serie di cose diciamo da dover fare che magari un proprietario bisogna vedere se poi ha quegli interessi infatti quando mi dicono ma perché il proprietario non se lo fa da solo sì perché deve sapere come farlo avere il tempo avere la voglia gli strumenti i software però è capitato su più di 150 immobili che ho gestito adesso poco più di 100 ho fatto un po' di selezione però tipo due o tre volte ed erano principalmente persone giovani magari che avevano ereditato questi immobili non lavoravano vivevano di rendita comunque io sto Ludovicoli 1500 euro al mese di provvigione tra una cosa e l'altra 35% magari determinati immobili erano anche 2000 2005 giustamente anch'io lo farei probabilmente ci provo alcuni sono tornati poi devo essere onesto con la cosa tra le gambe altri non lo so che fine hanno fatto se li stanno gestendo loro se li hanno dati a qualcun altro però è un rischio come lo come lo estirpi questo rischio è un contratto più stringente dove li dici fatto di non concorrenza tu non puoi farmi concorrenza su questi immobili non lo puoi gestire che è una cosa che all'inizio uno firma perché tanto dice si va bene non lo farò mai poi magari si rende conto che ha firmato una fregatura però si 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 comunque è chiaro il messaggio nel senso poi comunque è molto time consuming cioè ci puoi stare dietro perché magari è una di quelle cose che in base alle competenze può essere più o meno time consuming cioè mia madre quando è iniziato prendo sempre l'esempio di lei perché è un esempio molto vicino non mettere mai mia madre a fare un qualcosa di fare trading tipo voglio vedere tutti quelli che insegnano il trading se mettono la loro madre a fare il trading ho messo a fare questo lavoro tra l'altro io l'ho messa lei ha deciso di fare questo lavoro io l'ho aiutata perché ci credo davvero quindi sono il miglior business che lei potesse fare e all'inizio chiaramente lei ci metteva non so cinque ore a fare un annuncio oggi ce ne metterà un'ora perché più vai avanti e più è semplice e una volta in realtà ha fatto l'annuncio che è un po' come l'inaugurazione di un locale cammina da sé perché le prenotazioni arrivano in automatico quando prenotano ci sono i messaggi automatici grazie per aver prenotato il giorno del check-in gli arriva il messaggio automatico con il codice per entrare in casa entrano in casa con smart lock serratura smart eccetera eccetera dico che non fai niente però la media dei miei studenti che intervisto di coloro che hanno ottenuto risultati di successo mi dicono io lavoro due tre ore al giorno acquisizioni escluse è chiaro che se poi tu dici voglio continuare ad acquisire devi chiamare appuntamenti però se lei domani volesse fermarsi con 16 case probabilmente sì lo so diciamo tu quante ore lavori al giorno? tre o quattro ore al giorno è un buon compromesso per comunque sì sì poi cioè siamo andati nell'ultimo anno siamo andati assieme gli ho regalato io siamo andati assieme Maldive Dubai adesso andiamo in Giappone a vedere la fioritura dei ciliegi probabilmente a breve andrà in Argentina anche lei cioè cose che prima non poteva neanche sognarsi di fare sia per la questione economica ma soprattutto per la questione di tempo a chi lo lascia un ristorante non è un bambino cioè capisco sì sì se un Airbnb può essere automatizzato un ristorante è veramente difficile sì sì perché poi vabbè ristorante c'hai soldi la cassa ti possono ciulare metti il pesce marcio ti arrestano in ass cioè qua il limite il raggio di errore è veramente ristrettissimo quasi molto difficile fare cappellate e comunque le cose delicate come ad esempio il caricare i documenti di un ospite nel portale della polizia che se non lo fai è un reato penale cioè punito con l'arresto poi vabbè viene sempre convertito in multa però ad esempio questa cosa è una cosa che tu alla fine puoi fare da remoto perché una volta che hai la foto del documento o comunque hai una persona che va a prendere il documento all'interno del BNB ok si chiama Alberto Frisoni nato a giorno tal dei tali tu lo puoi scrivere anche se sei a Shanghai il portale della polizia è online capisci non è che vai lì fisicamente a portarlo le cose più delicate come possono essere queste le puoi fare anche da remoto e uno dice ma le pulizie c'è l'impresa di pulizie semplice faccio fare un video al termine di ogni pulizia così io so già che chiaramente se questa persona ha fatto una stupidaggine non mi fa il filmino del fatto che ha lasciato il muro sporco cioè quindi sono anche autoresponsabilizzati con delle checklist dei video dei controlli a campione che mandiamo a fare il team a campione va a vedere oggi un immobile chiaramente se c'è qualche tipo di disguido lo si segnala all'impresa di pulizia ok ad oggi hai detto che hai più o meno 100 immobili centinaio di immobili sì sto togliendo al posto che aggiungendo per fare una sorta di riciclo cioè prima magari prendevo anche il monolocale in periferia oggi preferisco avere un portfolio solo di un certo tipo è molto variegato cioè sono immobili veramente sparsi per tutto il mondo da il non il resort ah no scusa dal resort a Zanzibar mi confondo alla guest house alle Maldive per dire ok quindi ovunque cioè non va a Portogallo Spagna Argentina perché perché ad esempio io non sono mai stato a Zanzibar e ho in gestione questa struttura perché perché ad esempio sono strutture che lavorano principalmente con booking non sanno utilizzare Airbnb spesso non sono prenotate al 100% e allora gli accordi che faccio io sono guarda tutte le date che tu hai vuote cerco di piazzarti lì su Airbnb loro hanno una sorta di minimo garantito io voglio almeno 300 dollari a notte tutta l'eccedenza è tua magari su Airbnb lo sparo a 500 e tu hai la differenza e ho la plusvalenza è fighissimo cioè insomma è stato a Zanzibar c'è un immo in gestione un resort a Zanzibar quindi in realtà le potenzialità sono infinite c'è la gestione online il property management la sublocazione puoi chiaramente farti un mutuo e la rata del mutuo te la paghi ampiamente con le entrate del Airbnb e ti avanzano anche soldi è un mondo veramente molto vasto e variegato e più o meno il team che ad oggi gestisce perché ovviamente non è che sei da solo perché sennò chiaramente quante sono le persone che girano che si occupano magari di aiutarti a gestire questi 100 immobili dipende perché ci sono immobili sono super stagionali quindi ho dei team che lavorano solo d'estate però ti posso dire in media se prendi una persona sgamata io prendo solo persone che hanno studiato Airbnb Academy e tra cui anche mia madre ha studiato Airbnb Academy in media secondo me una persona può gestirne 10 per ogni 10 ne serve una poi ripeto se parliamo di ville a Porto Cervo per assurdo ne servono meno ma più qualificate perché lo stay medio cioè la durata media di un soggiorno a Porto Cervo è 7, 10, 14 giorni a Milano la durata media è 1 capisci quindi a Milano hai bisogno di più gente ed è un turismo più chiaramente mordi e fuggi a Porto Cervo molto più di qualità magari ti lasciano anche 2.000 euro di mancia al termine del soggiorno le persone che ad esempio collaborano con me per farmi check-in e via discorrendo a Porto Cervo guadagnano non che siano pagate poco perché non sono pagate poco ma guadagnano più dalle mance via discorrendo dal fatto che li prenotano il transfer lo yacht perché poi faccio tenere a loro ovviamente queste provisioni guadagnano più da questi extra diciamo che è un team più o meno quasi di 10 persone in realtà di più alla fine perché ho anche gli acquisitori e via discorrendo però il mio caso specifico è diverso da quello magari uno sta guardando questo video e dice oddio devo avere anche io 40 persone come lui no per ripeto iniziare questo business scalare poi dipende dalle ambizioni che hai io poi ho aperto un franchising di affitti brevi ho azienda che fa analytics di affitti brevi adesso ho aperto anche una prima lavanderia a Milano stile franchising gli ho concesso il brand faccio mille cose è un team infinito in continua espansione ieri ho fatto colloquio con un'altra persona abbiamo assunto un'altra la settimana scorsa ancora quindi è un continuo per non parlare degli sviluppatori faccio tante cose però diciamo la persona media che vuole iniziare come può essere mia madre un mio studente B&B Academy con una persona ne può gestire 10 poi conosco anche persone che con un dipendente passami il termine ne hanno 15 cioè uno ne gestisce 15 però media secondo me una persona ne può fare bene 10 se automatizzato e quanto uno che vuole partire da zero che vuole farsi magari un piano dove dice ok quanto posso fare guadagnare eccetera qual è l'ideale da cui partire cioè parti con un immobile è meglio che ti strutturi e dici ok parto fin da subito con 4 con 5 no è difficile partire con perché poi sono dei piccoli bambini come ti dicevo fai l'inaugurazione poi dura molto poco perché una volta che l'hai lanciato ti dimentichi dell'immobile puoi passare subito al successivo ma non conosco nessuno che è partito con 4 immobili assieme se non io che magari acquisisco interi pacchetti di immobili che ha abitato un imprenditore molto importante mi ha dato in gestione 3 immobili che ha tolto un'altra società di property management molto grossa con la quale non si è trovata bene questa è una cosa una costante e che tolgo cioè mi danno immobili a me che provengono da queste grosse società di property management perché manca questa sorta di rapporto più one to one oggi chiami ti risponde tizio poi caio poi spesso le case sono vuote ma perché se hai 2.000 3.000 annunci ma come fai a gestirli in maniera ottimale quindi poi vai a vedere i fatturati magari io con 100 case fatturo non dico come loro ma in proporzione loro ne hanno ripeto migliaia io ne ho 100 e magari fatturo 2 milioni loro ne fatturano 6 ma loro hanno delle sovrastrutture incredibili e poi spesso magari queste perché queste aziende magari campano più di finanziamenti business angel quotazioni in borsa e chi più ne ha più ne metta quindi magari il vero business model non è tanto l'affitto breve ma è farsi foraggiare da finanziatori o magari gli piace bruciare soldi perché il loro obiettivo è fare exit ci sono un sacco di società che non vanno neanche in profitto sono perennemente in perdita ma poi vengono vendute a cifre folli a dei grossi gruppi che è quello che è successo a Milano Stanze che in realtà aveva degli ottimi utili ma a Milano Stanze poi i due founder hanno fatto un exit e sono stati acquistati da dove vivo SPA per dire ok quindi quella è una cosa molto interessante uno dei temi che magari lo senti anche sul tuo operato è che ok Airbnb figo Milano Firenze Roma ok ma magari in città più piccole paesini eccetera faccio l'esempio mio io oggi vivo qua a Milano però io vengo dal Monferrato che diciamo è una piccola diciamo zona del Piemonte fatta di mille paesini eccetera quindi dico effettivamente ha le stesse potenzialità poi magari commisurate ti sorprenderò i migliori deal li fai non a Milano Roma Firenze allora c'è una località che non voglio nominare perché mi tirerei la zappa sui piedi sto comprando case su case ti dico solo che acquisto tre locali a centomila euro in questa zona in questa zona e di media mi fanno sui 3000 3500 al mese quindi io al mese faccio un 3% lordo 3-3 e mezzo però dalle mie stime in tre anni e mezzo io sono andato a break even sull'acquisto di un immobile sull'acquisto sull'acquisto senza considerare che se un domani volessi rivenderli non rivendo semplicemente l'immobile ma ci metto su anche l'avviamento che è una cosa che ho iniziato a fare con le sublocazioni cioè prendo una sublocazione l'avvio poi la rivendo dopo 6 mesi 12 mesi con tutto il track record di prenotazioni quindi uno che magari vuole il pacchetto chiave in mano vuole la pappa pronta dice ok ti pago 20 mila euro 25 mila euro 30 mila euro si può arrivare anche a 100 mila euro se sei tipo a Roma zona Colosseo poi dipende tutto dalla trattativa perché se sei bravo a vendertela certo devi trovare la persona giusta il giusto interlocutore però avendo io il network B&B Academy le persone entrano studiano il corso vedono ok è un'opportunità concreta vedono nella community un sacco di persone che guadagnano infatti chi me le compra gli studenti B&B Academy perché dicono oh la cosa funziona è vera non è mai successo che mi fosse stata comprata da uno che non fosse B&B Academy siccome sono soddisfatti o già se lo fanno o hanno visto i feedback positivi mi comprano le subloccazioni e quindi questo poi è un discorso che si può fare anche ovviamente quando acquisti un immobile lo vendi con sopra l'avviamento a patto di avere chiaramente l'interlocutore che è interessato a comprarlo per farci quel business però sì per rispondere poi alla tua domanda i migliori deal li fai nelle città piccole ho tantissimi feedback positivi da una coppia di studenti ad asti se tu avresti mai pensato perché ti prendi magari una subloccazione magari poi censuriamo il nome se no questi mi uccidono che tutti si buttano lì però prendono subloccazioni a 500 700 euro ma questi affittano a 130 euro a notte cioè in 4 notti in 5 notti si sono ripagati il canone di fitto concorrenza prossima allo zero perché poi dicono eh sì ma se io vado in quella città è pieno di B&B sì ma devi vedere che tipo di B&B le foto professionali non staging hanno i servizi hanno i set di cortesia cioè non le asciugamane c'è gente che affitta su B&B senza la biancheria cioè tu vai lì e c'è il materasso grezzo come stai cioè quella non è ospitalità quello è foresteria cioè è un'altra roba sì 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 però è vero cioè con le accortezze giuste quindi tu dici anche in posti dove magari non ti immagini perché poi è un po' la cosa cioè la concezione comune dico vabbè Milano Roma Firenze lo puoi dare scontato sì ho uno studente che viveva al nord adesso non mi ricordo dove si è trasferito a Salerno ci ha fatto il giro opposto che di norma fa la gente ma la gente di Salerno va al nord lui dal nord è andato a Salerno perché aveva avviato un B&B lì dopo aver preso il mio corso è andato benissimo c'era la nonna che viveva lì da qualche ma un ragazzo giovanissimo tipo 18 anni lui si è trasferito a Salerno adesso c'è tipo 16 case a Salerno abbiamo fatto una testimonianza infatti sono più contento quando nelle testimonianze escono fuori paesini sperduti nel nulla l'ultima che ho registrato l'altro ieri poi non so quando uscirà sul canale è un signore che faceva il dirigente per una grossa società di climatizzatori col covid ha chiuso adesso lavora come commesso da Leroy Merlin però col corso adesso ha iniziato a prendersi un po' di B&B ad Arcore Pioltello Segrate questi posti qua bei posti dimenticati da Dio insomma mi fa guarda quando c'è il GP di Monza 500 euro a notte comunque c'è qualche ospedale qua vicino come spiego nel corso gli ospedali sono un business incredibile l'affitto dai 90 ai 130 a notte a case che in affitto classico andrebbero a 500 o 600 euro per dirti quindi i veri deal li fai nelle zone piccole ed ecco perché poi ho lanciato questo software che si chiama Badly Go che è un analytics manager diciamo così degli affitti brevi che ti permette di fare una ricerca in un determinato luogo e in un batter d'occhio ti fa capire qual è il prezzo medio il competitor più forte il competitor più scarso quanti di questi ad esempio hanno il frigorifero cioè tu non ci credi tipo il 2% degli annunci non è che non hanno il frigorifero non lo spuntano nei filtri ma se non lo spunti è come non averlo perché se io Ludovico faccio una ricerca e dico voglio un B&B col frigorifero il B&B di quelli anche se ce l'hanno non mi compare pazzesco e quindi ti basta spuntare frigorifero per dire sbaragli il 98% della concorrenza e proprio con questa siccome tanti mi dicevano Ludo ma io in questa zona non so come funziona come non funziona abbiamo lanciato poi questa ennesima azienda che fa analytics di affitti brevi e quindi tu dici le zone che non sono presidiate sono quelle magari che comunque possono rendere o invece perché solitamente nel marketing cioè solitamente c'è una roba che non fa nessuno o hai scoperto l'acqua calda oppure non ci sono soldi da prendere nel caso si può lavorare bene ovunque come dicevo poi l'affare lo puoi fare nella grande città come nella piccola e la fregatura la puoi prendere ovunque però ad oggi con giuste competenze minimo di analisi e via discorrendo secondo me ed è dove sto investendo di più io dove devo mettere cash quindi in property prendo ovunque se ne vale la pena prendo ovunque ma se devo mettere cash preferisco queste città secondarie bello interessante oggi che poi sono un po' di domande che mi sono preparato qua per te hai uno stile di vita che chiaramente dato dal fatto che è diverso ok sei una persona diversa sei cresciuto tu hai creato aziende hai voglia di creare aziende quindi ti vedo anche che quando ne parli stai già pensando ad altre due o tre probabilmente mentre vedevo l'inaugurazione di cos'era rental pro qualche settimana fa quella era la prima boutique immobiliare di rental pro a Roma adesso siamo già in trattativa per Milano 20 miglia il secondo su Roma eccetera eccetera quindi ok è inarrestabile e poi come si diceva prima sui social si vede tu hai la Ferrari viaggi in jet elicotteri e quant'altro intanto facciamo facciamo un po' di step no? sono sfizi che ti sei voluto togliere perché è una cosa che cioè faccio l'esempio del jet privato che magari è una di quelle cose dove uno dice magari viaggio in prima classe già la prima classe e perché il jet privato? il jet privato è un mix di cose cioè la prima volta che l'ho preso era veramente il voglio provarlo tra l'altro la prima volta l'ho preso nel 2017 se non mi ricordo male lavoravo per GQ e c'era questa specie di Uber dei jet privati e gli scrissi guardate io lavoro per GQ recensisco app, servizi via discorrendo se volete offrirmi un volo io vi recensisco volentieri il direttore di GQ mi ha dato l'ok quindi primo volo scroccato con la storia di GQ infatti tipo arrivai da feci Milano-Londra arrivato lì all'epoca comunque nel 2017 ero abbastanza squattrinato le chiamo l'autista io no no grazie prendo la metro prendo la metro vado in un B&B nel Bronx di Londra però è arrivato col jet privato il primo jet l'ho preso così e lì mi ero detto vabbè chissà quando mai lo riprenderò invece poi le cose sono iniziate a girare l'ho ripreso un'altra volta insieme a degli amici per lo sfizio e poi ovviamente contenuti marketing posizionamento non prendiamoci in giro ovvio che se mi vedi in un jet privato è meglio che vedermi su Ryanair però poi subentrato come tante cose come la business che la prima volta l'ho presa per sfizio per fare i video per fare il reel eccetera eccetera sai che forse ha un senso oltre che un senso estetico un senso di marketing ha veramente una funzionalità questa cosa quindi tipo tutte le tratte europee dove non esiste la business dove non esiste la first dove non ti puoi reclinare il sedile poi io sono metro e novanta praticamente è scomodissimo viaggiare con qualsiasi tipo di compagnia aerea ho detto sai per le tratte europee quando soprattutto quando non c'è un'alternativa commerciale devo fare Milano-Lisbona ce ne sono quattro al giorno è un po' stupido per esempio il Milano-Faro nel sud del Portogallo dove vado spesso delle volte non c'è e se io devo fare un'intervista con te domani devo andare a Lugano per un business meeting e poi devo essere necessariamente lì perché ho l'acquisizione di una villa e non c'è il volo non posso dire a quello della villa 5 milioni no aspetta ci vediamo un altro giorno perché magari lui è arrivato dalla Francia ma non c'è l'alternativa devi prendere l'aereo privato e ti fai anche chiaramente un calcolo sto andando lì perché c'è la visita del mio cane vabbè se la visita del mio cane mando la cameriera a fare la visita al veterinario è finita lì ma se è un deal che potenzialmente mi può far fare 5 mila euro di provvigione al mese vale la pena prendere il jet perché dopo tre mesi mi sono ripagato il jet e poi è più comodo posizionamento eccetera 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 quindi diciamo che di dieci jet che prendo all'anno magari possiamo dire metà è funzionalità tre è fare sorprese ai miei amici o contest porto magari l'affiliato rental pro è e due lo faccio perché ho bisogno di fare contenuti ecco questo è un aspetto interessante perché comunque tu sei nel business degli immobili cioè degli immobili però in realtà col tema di B&B Academy sei nel guru business cioè dove chiaramente c'è la tua immagine e poi ci sono tutta una serie di dinamiche che chiaramente conosco del guru business quindi dover rispecchiare una certa immagine e quant'altro quanto ti trovi confidente con diciamo gli esporti creare contenuti essere sempre comunque in prima persona attaccato cioè sai tutte le dinamiche che ci sono dietro devo essere onesto ho una community fichissima cioè quando faccio io dico sono uno dei pochi che può fare gli eventi dal vivo perché tipo se li facessero alcuni che vivono a Dubai li prenderebbero ammazzate per le truffe che hanno fatto cripto cose in effetti venduto prodotti ma erogace esatto sì sì cioè robe incredibili invece io cammino a testa alta e anzi spesso mi fermano in giro ma non voglio fare che sono Chiara Ferragni però è stranissimo o si vergognano mi fanno le foto ah Ludo ti ho visto infatti uno gli ho scritto l'altro giorno scusami ma se mi hai visto fermami ti stringo pure una mano ci sono due chiacchiere è inutile mi fai la foto da dietro di nascosto che mi mette anche un po' a disagio e quindi no una community bellissima da un lato quindi mi piace da morire perché poi vedo la gente mi ferma poi il mio target non è il ragazzino di 17-18 anni sono adulti principalmente mia figlia grazie Ludo grazie a te adesso posso andare in bicicletta con mia figlia e non stare più chiuso in ufficio quindi è molto soddisfacente dall'altra parte delle volte è frustrante perché la gente si inventa le peggio robe tu l'altro giorno ho fatto un contest di beneficenza ho detto do delle consulenze a prezzo scontato al posto di pagare 500 pagate 250 e al posto di pagare la mia azienda donate direttamente a delle associazioni che vi do io ho raccolto tutto quanto non avevo ancora pubblicato gli screenshot perché c'era il Black Friday di mezzo ah truffatore cosa ti inventi pur di vendere le consulenze ho preso gli screenshot di tutti i bonifici ho preso gli screenshot delle associazioni guardate che ho donato ma poi scusami mi devo sputtanare per 250 euro la gente proprio pensa sempre male e questa è una roba che principalmente c'è in Italia quando vivo all'estero io vedo che da fuori sono tutti molto più positivi qua c'è una tossicità anche con gli accadimenti terribili che della quotidianità omicidi cose c'è un'ossessione nel parlare di quel caso specifico perché fa audience perché i giornali ne parlano perché crea engagement sta povera crista che è venuta a mancare è un'ossessione incredibile immaginate pure i genitori di questi che non possono più accendere a un televisore non possono prendere un giornale si parla solo della loro figlia che povera crista è stata uccisa cioè c'è un'ossessione per la negatività in Italia mentre se tu vai in Portogallo e apri il telegiornale non dico che sembra paperissima sprint ma si parla di politica di economia per carità delle cose che accadono nel mondo ma qua c'è una tossicità infatti poi va in giro semaforo verde dopo una frazione di secondo claxon bestemmie la gente che ti vuole menare quando vivo fuori dall'Italia torno qua mi sembra di essere in burundi veramente la cultura il cibo ok tutto bellissimo proprio l'agitazione della gente poi ovvio che se vivi a Capri a Capri non vedrai mai una scena del genere perché sono sani di mente e non sono esauriti ma nelle grandi città Milano e Roma Milano e Roma certo ma la gente è veramente fuori di testa e questa tossicità poi se la portano dentro anche nei social insultandoti dicendo cazzate e via discorrendo quindi me la vivo bene perché ci rido sopra poi li prendo per il culo li sfotto anche oggi uno mi ha scritto pollo e io con le patate grazie cioè un altro avrebbe cancellato perché gli è stato dato del pollo e io l'ho preso per il culo infatti poi non sanno neanche spesso che cosa rispondere cancellano i commenti di tutti e di più però sì è molto è remunerativo innanzitutto fare i corsi a volte guadagno di più dai bnb dipende dalla stagione a volte più dai corsi però io non avrei mai potuto aprire il franchising di affitti brevi o il software di analytics se non avesse avuto la community e se la community non fosse stata così tanto solida ce ne abbiamo lanciato Badly Go che è il software abbiamo fatto un incasso incredibile in una settimana ma perché? perché se uno compra bnb academy la cosa funziona è soddisfatto ho creduto in questo ragazzo effettivamente ha avuto un ritorno sull'investimento ha lanciato un software io ci reinvesto anche se il software sono 500 euro l'anno non sono pochi e quindi è stato un po' un abilitatore per creare delle società satellite che poi sono delle vere e proprie aziende con non lo dico non lo nascondo io spero un domani in rental pro di venderla decine di milioni di euro e Badly Go pure perché l'obiettivo di queste due aziende è poi un domani fare exit è che è interessante anche perché in Italia abbiamo una concezione diversa cioè noi in Italia creiamo l'azienda per viverci e morire dentro per i prossimi 40 anni e per lasciarla ai figli e per lasciarla ai figli e alle generazioni questo è più un concetto americano cioè creare l'azienda l'automatizzo cerco di far sì che poi posso fare un exit io tre dei quattro imprenditori preferiti che ho uno non lo posso nominare perché poi ha fatto cose terribili è stato arrestato italiani parlo togliendo Steve Jobs eccetera un altro è Pierparlo Zampini che è il fondatore di Milano Stanze Francesco Zaccariello e un altro è mio zio vabbè mio zio è un'azienda di famiglia ok lo escludiamo l'altro ha fatto cose terribili non lo nominiamo Zaccariello e Zampini sono persone che hanno sicuramente sempre avuto delle possibilità diciamo importanti essendo i founder di queste due aziende Zaccariello è il fondatore di iFarma che poi ha fatto exit con Atida che è un gruppo se non mi ricordo male olandese enorme insomma un exit di di cifre mastodontiche ma queste persone quando erano proprietari dell'azienda sicuramente ripeto guadagnavano bene eccetera 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 ma il vero salto di qualità l'hanno fatto quando hanno venduto e infatti poi ho avuto modo di parlare con founder di altre realtà che sono state poi vendute con exit importanti e mi hanno detto tutti quanti la stessa cosa datti uno stipendio anche di 3-4 mila euro al mese perché il vero salto di qualità lo farai quando la vendi magari per 20-30-40 milioni e infatti io l'ho visto con questi founder che magari quando erano dentro l'azienda come proprietari avevano lo stipendio appartamento carino Zampini dal Bosco Verticale come te una Tesla e via quando ha fatto l'exit Zampini Tesla su Tesla ha comprato ville enormi da Cariello insomma sui social quindi non penso che gli faccia un dispetto a dire questa cosa aveva la Porsche quando lavorava dentro la sua sezione ci lavora ancora però diciamo dopo l'exit ho visto che ha ordinato la Urus Ferrari 296 quindi ho visto che il salto di qualità vero e proprio lo fai quando tu vendi l'azienda quanto diciamo io lo io lo vedo nel senso che ho un socio che lui diciamo è molto diciamo non dà la percezione di ricchezza perché uno dice magari guarda ricco ricco è quello che ha tutto sempre iper diciamo vestito ruzza watch di plastica esatto salutiamo ruzza poi lo inviteremo però ecco non sempre quello ricco quello iper che espone che fa vedere eccetera anzi nel senso anche per lì al bosco ne vedo molti che non gli daresti un euro e poi magari vai a vedere sono no multimilionari come aziende ecco la tua idea ovviamente noi abbiamo un guru business quindi c'è tutto il tema legato di dover anche mostrare perché per molte persone se non fai vedere vuol dire che non sei che non sei nessuno com'è la tua idea in merito al vestirsi allora per rispondere al guru business io sono l'antipodo degli altri nel senso ho una ferrari e ne ho un'altra in arrivo mai fatto un ads con la ferrari volo in jet privato ho mai fatto un ads dal jet privato non mi ricordo neanche di aver fatto ads da business class first class quindi le mie ads sono magari dentro i miei mobili perché li gestisco ne vado molto fiero cioè dico quello a cui tu devi ambire non è la ferrari devi ambire a gestire un immobile così perché ti abilita determinati guadagni poi guadagni tu li puoi vivere come vuoi mia madre se li vive facendo regali alla nipote aiutando la famiglia in argentina io me li vivo in un modo e altra gente in un altro ancora e quindi espresso questo concetto che io non faccio ads con i rolex le cose così il vestiario per me è importante ma ad esempio io spendo anche più di quanto spende quello che si veste mi ricordo 5k da Balmain non so se te lo ricordi il personaggio che spesso 5k da Balmain io vado da Loro Piana ne spendo anche 10 talvolta perché un pantalone mi costa 900 euro ma non c'è e non c'è il logo ce lo so io che Loro Piana e lo sa la cameriera a casa che me lo pulisce e un occhio attento sono andato a un evento a Dubai di Mangazzi che magari conosci eravamo in circa 40 imprenditori da tutto il mondo so Mastermind ticket d'ingresso erano 25 mila dollari per quel singolo evento quindi gente veramente con capacità di spesa importantissima non ce n'era uno con il logo così ma io notavo che quella era Loro Piana quella era nemmeno Gildo Zegna quella era Ferragamo perché poi quando ti vesti così lo noti c'è tipologia e per oltre tu non mi vedrai quasi mai con un logo cioè c'ho una felpa di Vuitton con LV stop quindi magari spendo più di questa gente ma lo faccio perché mi piace a me sapere che c'ho il maglioncino in Baby Cashmere tu sai cos'è il Baby Cashmere? no mai sento Baby Cashmere è tipo se un maglioncino di Cashmere Loro Piana costa 1000 il Baby Cashmere costa 1500 Baby Cashmere è la prima tosatura in assoluto che quella pecore ha fatto nella sua vita pazzesco i miei maglioncini Baby Cashmere significa che se sta tosata solo filamenti di lana della prima tosatura in tutta la vita della pecora cioè quella pecora potrà produrre il Baby Cashmere una volta nella sua vita cioè per dirti io sono appassionato di queste cose per me è geniale io ci casco pure e poi ste cazzate perché non è che so riconoscere toccando il Baby Cashmere il Cashmere normale però quindi spendo magari 1500 euro per un maglioncino potevo spendere 800 per uno di Louis Vuitton e faceva più scena ma io lo faccio per me cioè tipo questo oggi è Cashmere di Fedeli c'è scritto Fedeli cioè questo è Incotex saranno 300-400 euro queste sono l'Europiana e cioè ma non lo noti lo so io questo è Ruzza Watch The Plus cioè i Rolex a Milano mi tagliano il braccio giro con i Ruzza Watch da 200 euro infatti ti avrei chiesto esatto cioè sei venuto perché so che c'hai un po' di Rolex e hai anche magari la passione degli orologi compro le riviste di orologeria io per dirti esatto però sei venuto a Milano e hai detto no mi tagliano il braccio ok c'è stato il problema di Sainz un pilota di Formula 1 che è venuto ma non solo Sainz lui perché è famoso ma io che sono nei gruppi di orologeria sono appassionato tutti i giorni Milano, Roma, Napoli ovunque ormai così parmi un po' della tua passione degli orologi diciamo che mi sono avvicinato in maniera in realtà molto commerciale quindi Rolex ho comprato il primo Datejust poi però ho iniziato a prendere le riviste ho iniziato a capire che c'era un mondo scoperto che esiste questo tizio che si chiama Gerald Gentà che è colui che ha disegnato per assurdo il Patek Philippe Nautilus e la Demar Piguet Royal Oak quindi due brand opposti sono stati disegnati dalla stessa persona e ad esempio io nel 2020 ho comprato un Bulgari Octo finissimo scheletrato l'ho presi a pensa sotto listino lo trovai sotto listino a 12.000 oggi ne vale 24 ma all'epoca mi davano del pazzo ma perché ti compravi con quello un Submariner ti avanza io prendo l'orologio perché piace a me perché conosco la storia perché è fine scheletrato poi se è anche un investimento ben venga infatti poi Bulgari ha vinto l'anno scorso nel 2022 il Grand Prix d'orologerie quindi diciamo una gara estetica chi fa gli orologi più fighi in parole povere e il prezzo dell'orologio è raddoppiato ma anche se non fosse raddoppiato a parte che non li compro per rivenderli quindi se sa mi fa piacere ma li compro perché mi piacciono infatti ho dei pezzi ho un Patek Philippe che ha la trava in oro giallo degli anni 80 che è lo stesso Patek Philippe che Berlusconi regalò ad esempio a una classe a quelli del suo partito insomma di Forza Italia non mi ricordo in che anno insomma in un'occasione importante è un orologio che la maggior parte dei reseller mi pagherebbero la metà di quello che l'ho pagato io ad oggi ma piace a me particolarissimo un bracciale spettacolare tutto in oro giallo c'è questa storia di Berlusconi eccetera eccetera non è stato un investimento ma è una cosa che piace a me bisogna anche uscire da quest'ottica di tutto quello che faccio lo faccio per investimento è un'ossessione ogni cosa deve essere un investimento ogni cosa deve essere marketing ma sti cazzi io ho comprato casa mia che è costata diversi milioni di euro non ho fatto un house tour sì ogni tanto faccio vedere la piscina ho fatto il cinema avrei potuto fare house tour della mia nuova casa da due milioni e mezzo ma sti cazzi cioè casa a parte che è casa mia così lì dovevo ai ladri anche l'assist per scoprire da dove entrare da dove uscire ma non deve essere tutto così perché poi si snatura anche infatti la gente crede a quello che dico perché notano che non ho questa ossessione del farlo vedere come metodo di vendita lo faccio vedere perché mi va di farlo vedere se non voglio farlo vedere non lo faccio vedere quanti orologi hai e quanto più o meno vale la collezione che è ah non tantissimo sono tipo 8 orologi 120 mila euro 130 cioè non tantissimo dai punti di vista ci sono orologi che solo il singolo orologio può venire 400 quindi nel mondo dell'orologeria è una collezione ridicola anche perché onestamente viene anche un po' l'ansia perché arriva uno di punto in bianco ti apre la cassa forte infatti prima di partire qua sono andato in banca li ho messi nel cavo per stare più per stare più sereno però è una collezione che a me piace cioè ogni volta che apro il mio cofanetto mi piace perché ogni orologio ha una storia questo l'ho comprato qui questo mi piaceva per quello questo apparteneva cioè mio zio ne aveva uno uguale non sono ossessionato infatti non troverai mai un video dove io dico ecco la mia collezione di orologi frega un cazzo cioè ogni tanto lo puoi vedere al polso magari ho fatto un video dove spiego l'orologio come investimento ma non troverai mai il video della mia collezione di orologi ok però non lo fai da investimento cioè lo prendi allora sono sopra ti posso far vedere Crono24 cosa dice sono sopra di diversi danari ok mi fa piacere ma io compro quello che mi piace watch collection ecco adesso dove è? sì qua qua 147 mila euro di valore la mia collezione dice sono in profitto di 27.500 euro ho fatto un 22% su degli orologi che ho preso per dirti su quel calatrava lì sono sotto vabbè dell'1% ma ho preso un tagoyer che mi piaceva perché era fosforescente cioè tipo i bambini ci ho perso il 14% ok sì sì ma stica mi piace da morire perché è super fluo cioè tutto il quadrante è glow in the dark no? brilla il buio sticazia mi piace cioè a me quella è la vera ricchezza poter comprare le cose non per impressionare gli altri ma perché piacciono a noi ho diciamo ho visto il il fatto che tu hai la Ferrari raccontami come visto che è una macchina ed è un'icona perché poi non è più una macchina ok è venuto qua un ospite dove che lui aveva tutelambo ok e lui mi parlava di come la percezione delle persone quando hai certi tipi di auto cambia totalmente ok mi raccontava che una volta era fermo al casello qua a Milano le macchine si spostavano perché dovevano far passare lui che aveva la Lamborghini cioè delle robe folli solo perché hai certi altri quando hai preso la tua prima Ferrari come è stata quella esperienza e poi magari anche la seconda che ti dovrà arrivare ti racconto un aneddoto ero io collaboro con Sotheby's in Portogallo non la casa cioè la casa d'aste è anche la parte di real estate ed ero a visitare una villa da circa 5 milioni di euro spettacolare e arrivo con la Ferrari ero dentro a vedere questa villa per poi eventualmente mettere un affitto breve esco e vedo un signore anziano che avevo capito essere anziano insomma sulla sessantina essere il proprietario una ragazza bellissima bionda ho detto questa è la fidanzata purtroppo invece era la figlia per fortuna però mi ricordo come questo qui cioè guardava la Ferrari così mi fa una sgasata io certo mi faccio la sgasata poi sono venuto a scoprire che questo non dico degli uomini più ricchi di Francia perché c'è gente con i miliardi però comunque è uno che ha un patrimonio di diverse centinaia di milioni di euro che è il proprietario di quella casa dove vive la figlia di 23 anni se sei arrivato fin qua è perché fai parte di quegli imprenditori che vogliono costantemente migliorarsi questo è il motivo per il quale abbiamo creato la super fatturato box la box dedicata agli imprenditori che vogliono far crescere la propria azienda quindi questa villa spettacolare e questa persona che poi ho scoperto avere un patrimonio veramente incredibile cioè solo di immobili decine 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 di milioni di euro perché poi ha preso in gestione la casa insomma conosciuto la figlia e via discorrendo sia lui che la figlia cioè non erano mai saliti su una Ferrari in vita loro ed erano sorpresissimi quello poteva comprarmi mettermi in giardino come nano da giardino quindi la mia Ferrari c'è proprio se la poteva prendere mille eppure era una roba incredibile per lui infatti io vivo in una specie di Beverly Hills passami il termine in mezzo ai campi da golf dove sarò tipo il più poveraccio di tutti sono case da 40 milioni ma tu li vedi questi escono con la Range Rover la Bentley la Rolls Royce lì di Ferrari non ne vedi e quindi anche uno che magari c'è una casa a 40 milioni di euro ti guarda e sterrefatto quindi sì come dicevi tu per assurdo anche uno che ripeto se ne potrebbe permettere 100 di Ferrari la vede un po' come un'icona la tratta in un determinato modo io vedo i bambini che mi fermano per strada io vado al McDrive con la Ferrari che è proprio la cosa più normale del mondo i bambini esterrefatti li porto a fare i giri tant'è che poi delle volte mi pensano anche che magari sono un malintenzionato una volta c'era un bambino che era così con lo zaino da scuola gli faccio vuoi che ti accompagno io a casa guarda non ti faccio niente accompagnato tutto il tempo così uno poteva anche pensare che avessi chissà che io sono così perché nessuno l'ha mai fatto con me oggettivamente le macchine mia madre sono state una Fiat 500 con l'aria condizionata scassata ma la 500 vi parlo no cos'era 600 la 600 tipo del 98 senza l'autoradio senza niente e una Peugeot 1700 cioè nel senso non è che abbiamo in famiglia l'unico era mio zio che aveva le Porsche la Maserati ma era mio zio nel senso lo vedevo una volta all'anno mi faceva fare sto giro 5 minuti finita lì la prima Ferrari che ho guidato è stata la mia mai guidato la prima Porsche è stata la mia Porsche e quindi prima di Ferrari hai avuto Porsche si ma un Cayenne quindi un SUV poi ho preso la 458 che tra l'altro è stato anche allora se ti devo mettere in ordine primo passione barra soddisfazione personale secondo investimento perché di marketing ne faccio veramente poco con la mia Ferrari perché mi era stato detto che era l'ultimo motore aspirato non è che ne capissi molto all'epoca prendila prendila che aumenta di valore perché è fuori produzione perché così perché colì e infatti sono sopra di circa 50.000 euro l'ho usata ci ho messo sopra chilometri l'ho vrappata il fatto di tutto e di più l'ho fatto guidare a tutti i miei amici a tutti quelli del mio team per la guidano tutti beh è chiaro la faccio guidare a tutti quanti non sono per niente geloso basta con parsimonia chiaramente che non facciano i pazzi e poi non so neanche se lo metterei nella classifica marketing per ripeto non ci ho mai fatto un haz non ci ho neanche mai fatto un video di youtube con la Ferrari per dirti sì un paio di reel ma come li farebbe penso chiunque cioè c'è Germano di Fuflix che ah perché tu flexi flexi Germano scusami ma tu hai comprato una moto mi sembra Ducati che caspita è e perché tu puoi mettere il post che ti sei comprato la Ducati o ti sei comprato la Renault o non mi ricordo cosa io non posso mettere la Ferrari eh ma è diverso poi io Germano lo stimo e infatti abbiamo un rapporto colloquio non dico che siamo amici però comunque certo ho un numero su whatsapp però un giorno gli ho detto scusa ma perché tu puoi mettere la foto voglio vedere se domani te compri una Ferrari se non pubblichi la foto ce lo farebbe chiunque esatto però viene travisato lo fai per flexare che poi anche cioè in America la gente ti stima se ti vede solo qua devono rompere le palle perché pubblichi la foto pazzesco se un mio amico compra la Ferrari faccio gli auguri gli mandano pure un regalo a casa per congratularmi con lui cioè un bel portachiavi figo d'argento con le sue iniziali per dire qua cioè due volte che l'ho portata a Milano gli sputi sopra cioè guarda l'unica persona che vedo che nonostante comunque abbia fa mostra non viene attaccato non so se lo conosci chi si chiama Roby Petra Ferrari Man lui ma io mio amico ok l'unica risposta che mi sono data è perché non non ha un business che lui mostra tramite i social lo attaccano comunque lo attaccano ovviamente perché ne dicono di tutti i colori però sì sicuramente il fatto che lui non abbia non vendo il corso di e-commerce benché lui sia diventato un mostro sacro che è con l'e-commerce lo attaccano comunque cioè attaccano Fedez Fedez non ti vende nulla non è che ti obbliga ad ascoltare la sua musica ti obbligano a comprare il suo drink non ti obbliga a fare ma come neanch'io nessuno obbliga nessuno eppure si sentono il dovere di rompere i coglioni però io dico perché Cristiano Ronaldo Conor McGregor lo possono fare e loro sono dei grandi perché loro non sono paragonabili cioè io sono molto più paragonabile all'italiano medio rispetto a Cristiano Ronaldo allora dà fastidio che uno come loro ce l'abbia fatta perché se lo fa ripeto Messi è Messi è il dio del calcio io sono molto più simile a loro di quanto non possano esserlo ad un grande calciatore questo me lì dà fastidio sì sì lo vedono lì è il mito cioè il mito è il mito è intoccabile e basta quindi può anche ammazzare cioè per esempio se si arriva a dei livelli dove lui può fare qualunque roba ed è comunque giustificato infatti qua ci sono state cause nei confronti di Cristiano Ronaldo con ragazze con cose tutti dimenticati tutto io magari domani mi diventi col microfono acceso e faccio una battuta sui napoletani per dire basta è la fine la prima a Ferrari l'hai comprata in Italia l'hai comprata l'ho comprata in Italia ma l'ho targata estera ovviamente non essendo residente in Italia sarebbe stato stupido nuova era no usata ma da uno dei reseller numero uno che c'è qua che si chiama Autovergiate ok sì conosco storici perché anche lì la Ferrari la puoi comprare anche dal piccolo concessionario d'auto del paesino vicino Pavia ma vatti a fidare cioè Autovergiate ha solo supercar quindi quello è importantissimo perché se poi ti prendi una fregatura magari per risparmiare 10.000 euro io mi ricordo quando sono andato a comprare la mia Ferrari la trovavi da altri concessionari più sfigati passami il termine a 10.000-15.000 euro in meno ed ero tentato ovviamente però chi ne capiva di più che mi ha seguito nell'acquisto mi ha detto guarda evita perché magari quei 10.000-15.000 che risparmi ne spendi 40 perché magari c'è il motore fuso tra l'altro devo dirti un altro aneddoto molto figo seguo su Instagram un paio di imprenditori importantissimi italiani che hanno fatto denaro con diciamo l'industria uno si chiama Dieter il cognome è impronunciabile su Instagram si chiama Nieder Prince però lui Dieter fa dei macchinari industriali cioè rivendita di macchinari industriali picatrici c'è una roba molto di nicchia e ha un parco auto da 20 milioni di euro vive sul lago di Garda e adesso ci siamo conosciuti agli eventi Ferrari però lui e Giampaolo Cavallina che è un imprenditore del settore petrolifero romano anche giovane avrà una quarantina d'anni da completo sconosciuto ti parlo comunque anche con lui c'ha un parco auto da milioni e milioni di euro io gli schissi su Instagram ciao Gianpaolo ciao Dieter io volevo comprare la mia prima Ferrari sono un piccolo imprenditore volevo chiedervi un parere ho questi in tempo zero che non ce l'ha scritto in nessuna parte che devono farlo gentilissimi gente con dei patrimoni ripeto folli sì io ti consiglio questa gli ho dato il link di auto scout questa per questo cioè delle persone ricchissime che potevano benissimo ignorarmi di una gentilezza incredibile e quindi anche questi imprenditori ad esempio mi hanno aiutato un sacco nella scelta della mia auto e poi magari c'è quello che vende due corsetti del manga li scrivi perché lo vuoi invitare al podcast eccetera e non te caga di pezza quando quelli ripeto ci comprano ci mettono in giardino come in anima giardino e sono le persone più disponibili del mondo d'accordissimo e molto intelligente è stato l'acquisto della Ferrari per il networking perché ad esempio questo Dieter che poi su Instagram si chiama Nieder però si chiama Dieter il suo nome reale ad esempio lo seguivo su Instagram ma l'ho conosciuto ad un evento Ferrari perché quando acquisti una Ferrari la porti a fare i tagliandi poi ovviamente dal concessionario Ferrari per non risparmiare c'è gente che va a fare i tagliandi dal meccanico amico suo ti permette di accedere a questi eventi dove ti presentano una nuova auto piuttosto che vai in pista e se sei furbo cioè io ho acquisito diverse case tramite questi eventi tra cui di questo ragazzo qui quindi è anche un'opportunità di networking incredibile che col mio lavoro mi ha permesso di acquisire ville appartamenti e via discorrendo è stato gente interessantissima nel tuo caso non è solo una questione dell'auto in sé è proprio tutto il corollario che c'è dietro e com'è l'esperienza di acquistare sei andata a comprare quella che deve arrivare in concessionario Ferrari? Rosso Corsa ah qua a Milano a Milano diciamo che secondo me devo essere completamente onesto sicuramente ci saranno clienti di serie A e serie B e io ad oggi sono cliente di serie B cioè quando sono arrivato è stato forse un pelo sbrigativo cioè ho visto che non c'era magari il venditore aveva un altro appuntamento non è che a un certo punto mi sono sentito un po' di fretta però comunque è una figata perché tu vai lì e c'hai praticamente tutti i tipi di volanti tutti i tipi di sedili c'è un mondo c'è il sedile Daytona c'è il sedile Racing poi mille configurazioni mille cose l'avevo configurata in un modo ripeto mi era stata messa forse un po' di fretta per i miei gusti e infatti poi online con più tempo me la sono riconfigurata e gli ho detto guarda cambiata totalmente era full black e mi sono stato accompagnato da Robby Petra tra l'altro li avevo chiesto di accompagnarmi e l'avevo fatta full black con Robby poi ho seguito una pagina Instagram che pubblica solo quel modello che era 296 GTS e ho detto mazza sai che questo rosso non gli sta male questi interni color Tortora non sono male l'ho riconfigurata da zero gli ho mandato al venditore Ferrari e ho detto guarda cancella l'ordine di prima rifatta da zero completamente diversa però è un'esperienza figa ripeto sicuramente se avessi 5 Ferrari mi darebbero ancora più attenzioni tra l'altro una cosa che devo chiedere prima che arrivi è mi sembra che la puoi addirittura andare a ritirare a Maranello se vuoi che anche quella deve essere un'esperienza incredibile capisco che per uno da Londra andare a ritirare a Maranello è un po' scomodo conosco un miliardario indiano che l'ha fatto però sarebbe a questo punto se devo ritirare a Milano tanto vale che vado a Maranello me la ritiro lì bellino vabbè credo che sia un'esperienza pazzesca e si parla di Italia tu invece non sei in Italia cioè tu non vivi qua quanto tempo c'è quando è che ti sei trasferito durante la pandemia ho detto caspita qua era una cosa che già covavo poi la pandemia è proprio stato un acceleratore ho detto qua cioè se rimaniamo chiusi non si sa quanto non si sapeva nulla ho detto almeno che rimango voglio rimanere rinchiuso in una villa con la piscina che non cioè tu puoi anche essere nel quadri locale in brera vista su quello che vuoi ma sei sempre in quattro mura la libertà di avere una villa con la piscina con le palme con i tuoi cani è impagabile infatti durante la pandemia i miei amici a spararsi cioè proprio volevano tagliarsi le vene ero lì con il mio fenicotto ero in piscina potete tenermi rinchiuso pure per tre anni io sto da dio qua quindi già lavori e dare modo cioè in più sì 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 e quindi è stato principalmente i fattori vabbè fiscalità ovviamente qualità di vita perché secondo me vivere tipo in Spagna in questi posti qua dove c'hai un sacco di sole non c'è il traffico dipende che parte della Spagna del Portogallo eccetera però io vivo in mezzo ai campi da golf ed infine sicurezza cioè per me è impensabile il fatto che io non posso indossare un orologio devo aver paura se la mia ragazza va a correre cioè tipo io la mia ragazza se mi dice vado a correre a Milano mi faccio il segno della croce spray al peperoncino tasto SOS sull'Apple Watch che se succede qualcosa mi manda la localizzazione io vedo gente che va a correre di sera di mattina a casa mia non succede niente tant'è che quando sono venuti quelli della sicurezza privata per farmi il preventivo dell'allarme mi ho detto guarda in maniera totalmente onesta tanto l'allarme te lo faccio nel senso faccio a prescindere ma quanti furti fanno in tutta la zona che parliamo comunque di un agglomerato di migliaia migliaia di ville all'anno ma uno o due all'anno e sono furtarelli di magari quello che passava visto che c'era la finestra aperta ho fregato il portafoglio e se ne è scappato cioè per me quando mi metto così ho fatto la scelta migliore della mia vita questo mi doveva vendere il servizio dell'allarme quindi figurati gli interessi che aveva dietro per me è quello impagabile senza andare a Dubai bellissima per carità però senza farmi sette ore di aereo il fatto di vivere in Europa anche se magari comunque devi pagare qualcosina di tasse per me è impagabile né vivere in mezzo ai cammelli con 50 gradi a settembre che non respiri né essere vessato qua con una tassazione incredibile e ripeto tralasciando la tassazione non stai tranquillo cioè devi aver pausa abbiamo parcheggiato qua sotto mia madre ma no qua è troppo buio mettilo sotto il lampione cioè lì non esiste una roba del genere la gente sta con la porta la porta di casa aperta io d'estate per non far cuocere la macchina lascio i finestrini abbassati così quando quando vado è più fresca cioè qua se lascio il finestrino abbassato ti trovi la gente che ci dorme dentro non è vero e Dubai non l'hai scelta per il tema della lontananza per il clima c'erano alternative in Europa e ho preferito se non fossero esistite sarei andato probabilmente a Dubai con dei malumori diciamo io poi ho due cani amo gli animali Dubai è difficile col cane sia per la cultura araba sia per il caldo cioè quando andai a vedere delle ville a Dubai da prendere in gestione mi dissero qua d'estate devi annaffiare tipo ogni tre ore perché sennò si brucia l'erba annaffiare ogni tre ore io a casa mia adesso annaffio sono gli annaffiatoi ovviamente automatici partono alle cinque del mattino tipo a luna di notte due volte a Dubai invece se hai un giardino si brucia tutto è una cazzata però come fa un cane a vivere con 50 gradi lo devi portare di sera cioè quindi anche pensando ai miei animali Dubai sarebbe stata proprio l'ultimissima scelta hai due cani? due cani sì ok sì ma anche d'estate e di sera comunque a Dubai non è che a settembre per l'evento di Mangazzi ho aperto la finestra dell'albergo sto appannato una folata di caldo che non riusciva a fare dieci metri per andare a prendere l'uber che eri zuppo 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 incredibile è bellissima per andarci in vacanza quando qua è inverno e fa freddo quello per me è l'ideale di Dubai o ti vai a fare la stagione invernale però non può essere casa tua a dodici mesi l'anno se no è follia mi sono segnato ancora qualche altra domanda che mi piacerebbe farti allora ecco questo è un po' un tema che faccio anche alle persone che perché ovviamente ok elevi il tuo stile di vita diventi una persona più poi adesso sei guru eccetera le donne ok parliamo un po' un po' di donne cioè quante magari faccio la mia madre c'è la mamma che era gold digger oppure situazioni magari raccontami un po' la tua allora io sono sempre stato molto da squattrinato e forse ancora di più oggi molto focus sull'avere una relazione fissa una donna perché io poi penso praticamente un lavoro avere una relazione cioè averne una al giorno cambiarne una alla settimana è un lavoro cioè devi comunque di più che averla esatto è un lavoro averne più cioè se per ogni ragazza giustamente un minimo di attenzione gliele devi dare conoscerla conquistarla il fiore la galanteria la cosa cioè io non capisco quelli che veramente le cambiano alla settimana soprattutto a Dubai però capisco che sia difficile avere una relazione a Dubai però ecco ogni qualvolta ho captato anche quell'1% di possibilità che la ragazza fosse interessata al denaro via subito tant'è che la maggior parte delle mie relazioni lavoro permettendo che cioè la maggior parte le ultime relazioni importanti erano comunque persone che lavoravano nel business degli affetti brevi conosciute con B&B Academy e via discorrendo guadagnavano bene e laddove si poteva si pagava a metà chiaro la casa non è che me la paghi a metà però si va in vacanza alle Maldive è successo che io pagassi l'albergo e la mia ragazza pagasse il conto del ristorante per dire è una cosa più soddisfacente poi ti faccio tutti i regali del mondo non vado a spese ovvio che se voglio prendere il jet privato il mio sfizio lo pago io non lo devi pagare tu però per me avere una donna a lato che lavora si dà da fare è fondamentale non penso che potrei mai avere una donna a fianco a questa età che non fa niente mi sentirei proprio a disagio e penso anche questa persona come si può sentir non hai l'input di fare qualcosa quindi magari puoi anche fare un lavoro non troppo remunerativo non dico devi guadagnare 10.000 euro al mese però almeno mi dimostri che pur stando con una persona che potrebbe mantenerti tu avere la tua indipendenza economica questo è è lo standard poi ovvio che ti scrivono si propongono ti si buttano sopra però io le scanso onestamente non è quello che cerco poi io vedo ripeto ragazzi anche molto giovani a Dubai con palesemente delle escort io spero di non dover mai pagare per stare con una donna se proprio devo farlo quando ci avrò 80 anni nel senso che magari sarò decrepito brutto non mi vuole nessuno vabbè ma a questa età ho grande stima di me non penso di aver bisogno non ho mai avuto bisogno di queste cose anche quando non c'è una lira te lo può confermare mia madre le donne non sono mai mancate e la parola giusta è detto bene donne cioè quello che ad oggi di cui ho bisogno è una donna e non una ragazza perché sono ad un livello dove non posso permettermi di avere una persona ah lavori troppo mi dai attenzioni vabbè devi capire che non sto qua a pettinare le bambole sto lavorando per poi arrivare a 35-40 anni dove posso guidermi i miei figli esatto il mio obiettivo è andare in pensione a 35 massimo 40 anni ma il tema delle escort è che essendo che viviamo ormai in un'era dove c'è tutto facile quindi non si ha più la voglia di conquistare veramente una donna preferisco andare direttamente io invece per fortuna non ho questo vizio poi non giudico chi lo fa ma proprio non mi non mi si addice poi si parla tanto di patriarcato quello e quell'altro e le stesse che vanno a protestare poi la sera magari arriva quello che offro la cena e ti do 500 euro e dicono di sì va bene contenta tu una cosa è la violenza è quello assolutamente da condannare però venire a fare la morale all'uomo che ti fa un apprezzamento e poi tu sei la prima che però si fa pagare per io lo reputo ridicolo io ho conosciuto una persona che fa OnlyFan guadagna 50 mila euro al mese con OnlyFan ma i genitori non li parlano più ma anche lì tu preferisci barattare per denaro il non avere praticamente più una relazione con la tua famiglia per me è fantascientifico quindi ad esempio io con una che fa OnlyFan non ci potrei mai stare sì sì ma è il dio denaro alla fine in un modo o nell'altro io avrei potuto sputtanarmi alla grana ho potuto scammare mi hanno proposto di pubblicizzare robe di gioco d'azzardo con anche cifre importanti ma io preferisco guadagnare meno e avere un'etica poter camminare a testa alta che è sputtanarmi e parlare di NFT poi il mese dopo cripto poi il mese dopo trading come fanno tanti e infatti poi rimangono circoscritti a Dubai perché se facessero qualcosa dal vivo in Italia hanno scammato tanta di quella gente che si devono nascondere e sì oltre al fatto di capire quanto voglio durare perché un conto è dire ok voglio fare business per i prossimi 2-3 anni o per i prossimi 20 una volta che prendi le persone gli rompi le palle 2-3 volte la gente dura poco sei una persona che viaggia tanto oggi sei qua sei arrivato da Lisbona poi domani mi dice che vai a Lugano poi New York poi New York quanto viaggi diciamo per lavoro quanto viaggi in realtà per stile di vita per stile di vita mai perché io sto benissimo a casa mia mi sono costruito una casa che veramente mi ha immagini e somiglianza col cinema la playstation la sala giochi cioè quindi proprio se devi uscire di casa ne deve veramente valere la pena e ti posso dire prima che acquistassi questa casa quindi era una casa che mi bella ma non era fatta a mia immagine e somiglianza tipo 2021 ho preso più di 100 voli 2022 più di 100 voli per il 2023 mi sono prefissato di farne molti meno sarò a una trentina non che siano pochi e per l'anno prossimo meno ancora quindi il mio motto adesso è meno ma di qualità cioè se voglio andare a vedere piuttosto ti invito io vieni tu a casa mia ma preferisco che mi vieni a trovare e preferisco fare viaggi intercontinentali principalmente sono andato nell'ultimo anno alle Maldive tre volte in 12 mesi preferisco così piuttosto andare ad Amsterdam il weekend poi il weekend a Parigi ci sono andate a Parigi perché volevo portare la figlia di mia cugina a Disneyland io, mia madre la mia ragazza e la figlia di mia cugina a Disneyland ma perché volevo andare a Disneyland non perché al weekend a Parigi l'ho già fatta l'ho vista mille volte a Parigi visto tutta l'Europa mille volte e quindi pochi viaggi ma buoni qualitativi e perché ho voglia di farci se mi metterai a viaggiare solo per fare contenuti mi sentirei un fallito onestamente al lavoro quanto spendi se ti sei mai fatto un calcolo per lo stile di vita quanto costa il tuo stile di vita o anche solo tra casa auto e quello che fai nei viaggi la casa essendo acquistata per fortuna non risulta ti posso far vedere non lo mostro per educazione ti mostro l'estratto conto American Express di questo mese che però è molto variabile cioè magari il mese prima adesso perché ho prenotato l'albergo lì a New York ho preso un albergo importante ho preso i voli in business quindi quella è la cifra non voglio dire cifre perché ripeto magari potrebbe essere rispettoso nei confronti di però molto variabile in base ovvio che se compro un Rolex perché l'ho trovato a listino io compro solo a listino è ovvio che quel mese l'estratto conto sarà molto più alto infatti posso dire tipo di bollette ecco la mia villa mi costa circa 600 euro di elettricità giardinieri e cavoli vari saremo sui 300 euro al mese la cameriera prende 1500 assurdo e la spesa al supermercato cioè prendo i succhetti che piacciono a me non guardo non vado tanto a spese su quelle cose lì saranno altri o 6-700 al mese perché comunque adesso prendo il miglior prosciutto il miglior formaggio non bevo vino ma prendo cibo artigianare sì sì non me lo faccio mancare mi piace da morire anche se sono magro mangio un sacco quindi sicuramente spendo di più rispetto alla media però dall'altra parte non sperpero che mi piace molto questa cosa cioè come ti ho detto prima avrei potuto qua venire qua e fare il figo e dire volo solo in business solo in first cosa che faccio ma pago 10.000 euro al mese no la maggior parte ripeto con i punti dell'American Express e ne vado fiero di questa cosa cioè mi reputo più intelligente di chi spende sempre solo 5.000 euro per un volo di 10 voli ripeto 2 li pago cash gli altri sono tutti punti piace fare gli affari siamo andati in un albergo alle Maldive con mia madre non mi ricordo avrò speso tipo era un albergo da 15.000 euro per il soggiorno che abbiamo fatto ne avrò spesi 2.000 di transfer che alle Maldive c'è il transfer obbligatorio cioè per me quello è libidine andare in un albergo costosissimo e spendere 2 lire quello è più intelligente secondo me di chi va gli paga tutti i cash poi quando non è possibile tipo New York sgancio e non è un problema ma se posso usare i punti escamotage eccetera ben volentieri sport ne fai? giocavo tantissimo va bene nella vita ho fatto tutto salto agli ostacoli con i cavalli palla a mano calcio nuoto tennis adesso ho smesso un po' col padel perché si è sfaldato il gruppo col quale giocavo che erano tutti principalmente pensionati dove vivo io sono tutti pensionati però pensionati di 40 50 anni e anche perché ho lanciato rental pro ho lanciato badly go sono molto poco focus però mi sono prefissato da gennaio ho già tutta la scheda di iniziare a far palestra per mettere su un po' di massa e spero di tornare a giocare a padel devo essere onesto quando sono in una relazione se la persona vive con me sono molto più spronato perché dico andiamo a giocare assieme a padel andiamo assieme a fare la camminata se sono da solo a casa con i cani la cameriera ma chi me lo fa fate uscire adesso se posso stare qui a registrare un video a fare un'acquisizione provo più libidine a far quello però capisco che il corpo ne abbia anche bisogno però la mia evasione sono le vacanze magari faccio una vacanza al mese adesso vado parto un mese tra New York e Argentina sto fuori un mese camminerò farò equitazione tutto quanto però capisco per una persona normale lo svago sia andare in palestra per me l'evasione è andare in pista con la Ferrari fare il viaggio portare mia madre in Giappone questa è la mia evasione un tipo di evasione diverso qual è la tua giornata diciamo tipo se ce n'è una c'è la giornata di Ludovico può essere come ieri mi sveglio dalla mattina alla sera seduto alla scrivania a casa mia o può essere che mi sveglio e oggi voglio giocare a playstation metto a giocare a playstation nel mio cinema non ho voglia di fare niente veramente non esiste una giornata standard la costante è che comunque sono sempre reperibile col mio telefono rispondo sempre ai miei collaboratori al team ai proprietari di casa soprattutto perché se scompari è la fine è la fine è l'elemento differenziante quello dei sono ogni presente la gente dice non so come fai però non c'è una vera e propria giornata tipo ripeto dipende dal periodo la settimana prima del lancio di Bedly Go era mattina pomeriggio e sera con gli sviluppatori ad assicurarci che il software fosse impeccabile però ti dico come può essere la mia giornata tipo idealmente sarà mi sveglio con mia moglie i miei figli i miei cani colazione tutti assieme e poi magari leggo le notizie mi piace tantissimo leggere le notizie a me pubblica fanpage eccetera anche se la maggior parte sono spesso clickbait robe malate sull'affitto breve ne dicono di ogni sembra sempre che deve esplodere tutto poi non succede mai niente perché sono bozze di legge c'era la bozza di legge sulla flat tax tu l'hai mai vista sta flat tax però mi sarebbe piaciuta vederla però sì colazione con mia moglie i miei figli i miei cani passeggiatina con i cani in zona magari pranzo al golf club cosa che vado a fare spesso pomeriggio qualche call di lavoro controllare i deal magari gli immobili cioè io vorrei veramente uscire riuscire a delegare tutto una volta che farò le mie exit e poi passare il tempo con la mia famiglia quello che io non ho avuto il passare tanto tempo con i genitori vorrei darlo io un domani ai miei figli quindi molto incentrato sulla famiglia la casa gli animali il benessere il passeggiare e poi ovviamente un sacco di viaggi se non avessi avuto i cani viaggierei tipo mi farei un mese in Giappone un mese in Cina l'unica cosa che non mi permette di viaggiare 12 mesi l'anno sono i cani li voglio troppo bene per quanto posso avere dog sitter eccetera mi piace stare con loro se non avessi avuto i cani avrei comunque comprato la villa probabilmente l'avrei messa in affitto breve e avrei girato il mondo sei molto legato beh comunque quando è un animale c'è un legame e che io sono cresciuto praticamente con mia madre era sempre al ristorante mio padre non viveva con me insomma mi hai separati e quindi mia madre l'unica cosa cioè non l'unica cosa buona che ha fatto una cosa molto buona che ha fatto è stata prendermi il cane quindi sono cresciuto con questo cane che adesso non c'è più ma mia madre tornava dal ristorante a mezzanotte e io avevo il cane non avevo fratelli non avevo sorelle avevo il cane quindi per me è proprio tipo fratello poi ripeto quello non c'è più adesso ne ho presi altri però per me gli animali cioè io spesso trovo in giro per casa mia cani di gente ai quali sono scappati mi raccato tutti gli mando le foto mi hanno preso un labrador beagle bassotto vado al veterinario li leggo il microchip cioè io proprio se metto gli estremi cani potrei morire quindi per me gli animali sono sacri una cosa che ti voglio chiedere in merito al tema della Ferrari perché visto che si parla di noleggio si parla di diciamo leasing oppure l'hai acquistata adesso l'ultima l'hai comprata o l'hai la prima l'ho acquistata la seconda l'ho presa in leasing perché per assurdo mi è stato raccontato non so se è vero ma per logica potrebbe esserlo queste grosse case automobilistiche danno più priorità al cliente che prende il leasing perché ovviamente loro hanno il tasto di interesse sopra tutti hanno la loro finanziaria cioè se tu vai da Volkswagen tu hai Volkswagen Financial Services Fiat esatto quindi per assurdo mi hanno detto ti arriva prima se la prendi con leasing poi ovviamente è il vantaggio anche che la detrai dai costi aziendali non prendiamoci in giro poi c'è questa concezione comune l'hai presa in leasing ragazzi ma non è che il leasing te la regalo cioè scusami se è così semplice prendere il leasing dove la tua? se no infatti ragazzi ma la Ferrari ma anche una Range Rover Evoque in leasing ti costa 700 euro al mese si immaginate quanto ti può costare una Ferrari al mese di leasing se guardi le ultime leasing del Range Rover Sport sei sui 1500-1600 quindi capisci è lo stipendio la gente eh ma l'hai presa in leasing come se fosse regalata raga ma il leasing costa comunque un culo devi mettere up front magari 100.000 euro l'Italia ne è 4.500 al mese più riscatto e non lo danno neanche a tutti i leasing perché devi avere anche una certa solidità finanziaria per garanzie bilanci depositati quindi ripeto la prima l'ho acquistata infatti sono molto contento perché se domani la vendessi cosa che non farò ma se la vendessi avrei una prospodenza di 50.000 euro circa la seconda in leasing ecco non mi sono mai chiesto quanto è liquido effettivamente il mercato tipo Ferrari cioè dire ok la metto in vendita quanta è la durata media questa è una domanda dipende dipende se la vendi al dealer ad esempio Ferrari gliel'avevo chiesto per curiosità loro mi hanno proposto un conto vendita autovergiate me la pagherebbe cash meno chiaramente oppure la puoi mettere anche da privato ma chi è che si compra una Ferrari da privato c'è solo un folle quindi finisci sempre per andare o canale ufficiale Ferrari o autovergiate car in car e via discorrendo però la vendi cioè se hai bisogno di liquidità la puoi ottenere subito semplicemente magari ti perdi 10.000 euro ma ce li hai subito bene bene e ti lascio andare a cena con la mamma che so che è un appuntamento importante ho provato a rubargli una cena ma non era già impegnato però la mamma penseranno chissà dove va da Cracola e mangiarci gli arrosticini da arrostiti in via Vigevano che è super tipo street food però bonista abruzzese capisci il guru va a mangiare gli arrosticini insieme ai comuni mortali no perché magari va anche da Cracco però uno dei primi regali per il comprare di mia mamma è stata portarla da Cracco però se devo scegliere gli arrosticini per dire gli hamburger sono tipo sommelier degli hamburger tutti gli hamburger del mondo dove vado vado prima cosa che prendo è l'hamburger sì sì ma io invece non po' più per il posto raffinato però effettivamente anche queste sono le cose sai perché te l'ho voluto dire perché da fuori spesso le persone mi conoscono e dopo un po' ah ma sai che sei proprio simpatico in che senso eh no su Instagram sembravi spocchioso sembravi che te la meni che te la tiri la gente deve capire che Instagram non è la realtà né per le cose esagerate per chi ti fa credere che è chissà chi né per neanche le cose negative non puoi giudicare una persona dai social esattamente è come giudicare un libro dalla copertina esatto tutte le persone che passano dal podcast ricevono quello che è il nostro super cappellino ci speravo quando l'ho visto spero sia per me quindi questo è tuo così puoi tornare a casa che beh da dove sei te col sole che hai è utile poi il motto mi piace molto fatturare 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 è giusto è uno dei miei motti quindi grande grazie per essere stato qua con noi grazie a te e noi ci vediamo in una prossima puntata ciao